E adesso che ospiti, che energia, che solarità, che fuego! Un ospite nuovo? Dimmi chi è! I diretti interessati? E cosa cantano? Dimmi chi è! Wow, ma che fantasia! Cioè, hai bruciato proprio il titolo, vabbè. Allora, carissimo. No, se noi scherziamo sempre, tu lo sai. Bruno! Sì, certo che lo so. Penso che loro hanno rilanciato un mio brano, Volerò, facendo una versione tutta particolare, che ha avuto un grande successo. Io sono onorato, scherzo su tutto, non mi prendo mai sul serio, proprio perché prendo sul serio questa professione, quella di essere artisti. Artisti di vita, artisti sul palco, artisti con persone. Grazie, Umberto, grazie. È vero, è vero, è vero. Infatti, voi apprezzate molto anche il campo del sociale, quindi tanti brani dedicati anche a queste tematiche importanti, e quindi siete sempre alla ribalta attivi e sempre attenti anche alle tematiche, vero? No, è vero. Allora, i diretti interessati, un nuovo album. Su un nuovo album c'è anche Dimmi Chie. Dimmi Chie di... William Di Paolo. Che è un bravissimo autore. Giusto? Sì, sì. Poi presentiamo dopo tutto il gruppo, i diretti interessati. Grazie. Grazie. Ormai è un anno che non incontro più gente. non riconosco neanche me stesso, non ho mai capito chi sono. E' stato un sogno, non mi sento più vivo, e non capisco se anche la gente non ha mai rubato uno sguardo con me. Dimmi Chie di... Dimmi Chie di... Dimmi Chie che da... Dimmi Chie che crede che è ancora un uomo. Dimmi Chie... Dimmi Chie che vede se non vede il vuoto. Fortuna c'è la nebbia e non vedremo il salto che faremo. Ormai è il tempo di trovare me stesso, non ho la forza di chiedermi cos'è, cercando ancora di trovare il perché. Dimmi Chie di... Dimmi Chie... Dimmi Chie che dà... Dimmi Chie che crede che è ancora un uomo. Dimmi Chie... Dimmi Chie che cerca... Dimmi Chie che vede se non vede il vuoto. Dimmi Chie... Dimmi Chie... Dimmi Chie... Dimmi Chie... Dimmi Chie che da... Dimmi Chie che crede che è ancora un uomo. Fortuna c'è la nebbia e non vedremo il salto che faremo. Dimmi Chie che crede che è ancora un uomo. Dimmi Chie... Dimmi Chie che crede... Dimmi Chie che crede... Dimmi Chie che crede... Che è ancora un uomo Che brano, che brano Bravo anche l'autore Complimenti Grazie Allora ripresentiamo il gruppo Allora la chitarra acustica Roberto B Poi Sabrina Quota rosa Sabrina Lagorista Fabio Il Basso Alessio D.K E adesso c'è Bruno Che vi saluto Grazie a tutti Grazie